ciao siamo arrivati quando è che cambi il nome del canale mai del c.anale c.anale dove andiamo oggi oggi siamo a padua lento e fa caldo a un'altra c.anale Posso spingerti io? Dai dai! No! No! no su否 è un po' bello è un po' bello andiamo in quello là non ahahah io l'ho pist� ok anche qui un lato Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Sì, non c'è la confusione. Ciao, questa giornata è finita e ci vediamo. Ciao.